Amici modellisti benvenuti ancora una volta su Model on Passion e su l'argomento di oggi l'approfondimento che riguarda la propulsione che simpaticamente io chiamo i quarti cioè la quarta importante il quarto importante aspetto da conoscere ed approfondire nel momento in cui si vuole costruire un'imbarcazione ovviamente con il termine quarti non c'è nessun tipo di legame con i quarti che sono in realtà nome diciamo tecnico che riguarda le costate ordinate di un'imbarcazione allora vediamo subito che cosa si intende per propulsione la propulsione come alcuni di voi sanno per chi non lo sa lo lo saprà in questo appuntamento è quella la capacità di un'imbarcazione di potersi muovere in acqua e seguendo una determinata rotta per poter fare questo c'è bisogno di un sistema di un impianto di un meccanismo che ha visto nel corso delle epoche della storia dell'uomo una serie di modifiche di modifiche e di trasformazioni queste trasformazioni queste modifiche noi le vedremo durante questo approfondimento sono state importanti per migliorare poi nel corso delle delle epoche quindi per propulsione o per parti della propulsione si indicano quelle parti navali impegnate nel movimento dell'imbarcazione vediamo per esempio una delle più note forse nel campo della navigazione sicuramente la vela la propulsione a vela vede partecipi appunto l'utilizzo delle vele che sono appunto delle dei ritagli in tela in stoffa rinforzati nei punti diciamo più critici della della vela stessa per aiutare diciamo la resistenza di quest'ultima nei momenti difficili della navigazione cioè durante le tempeste per esempio nel caso delle dei vascelli e l'impianto a vela era caratterizzato da una serie di vele che erano legate a degli alberi di diversa natura e diversa struttura e la stessa vela le stesse vele si sono modificate nel corso del tempo sono modificate quindi una un'imbarcazione del 400 avrà un impianto a vela sicuramente diverso rispetto a una nave dell'800 e così via la caratteristica della vela è quella di sfruttare appunto il vento e il vento premendo pressando sulla tela sulle sulle tele permetteva il movimento dell'imbarcazione esistono come abbiamo detto prima diverse tipologie di vela a seconda dell'epoche e a seconda anche dell'imbarcazione perché le navi per esempio un vascello di alto tonnellaggio di alto tonnellaggio come nel caso della HMS Victory e una fregata avevano delle caratteristiche diverse ma anche delle utilità diverse delle necessità diverse possedevano un impianto a vela completamente diverso oppure come si può vedere da questa fotografia i clipper che erano un po' le Ferrari della metà fine 800 inizi del 900 e la velocità era proprio data garantita dall'impianto belico e non soltanto dallo scafo ma anche dall'impianto belico. qui abbiamo l'arcinoto direi Vespucci che insomma fa capire un impianto velico da che cosa è caratterizzato noi entreremo maggiormente in dettaglio in un altro approfondimento sulle vele e sulla loro realizzazione anche ma qui è giusto diciamo un quadro di insieme di per coloro che insomma masticano poco non ne hanno alcuna conoscenza di quelle che sono le parti le componenti e quante le sono ed è un numero variabile ovviamente rispetto all'imbarcazione di un impianto velico. Che cosa permette come abbiamo detto la possibilità di impiegare le vele? L'alberatura che può essere semplice o complessa che è caratterizzato da degli alberi che sono fusti i cui alberi di altezza variabile montano dei pennoni che sono praticamente gli elementi trasversali per sostenere appunto e anche manovrare l'impianto velico non soltanto per il movimento avanti ma anche per le manovre cioè gli spostamenti laterali. Oltre ovviamente la propulsione a vela precedentemente o anche senza vela abbiamo la propulsione a remi. Leonardo da Vinci utilizzando quelle che erano le vecchie tecniche anche romane e greche aveva lavorato un pochino su progetti e aveva fatto aveva immaginato e quindi realizzato progettato questo sistema molto particolare di impianto a remi diremmo noi oggi assolutamente all'avanguardia ipertecnologico utilizzando delle pale quella che poi è successo dopo per il Mississippi per le imbarcazioni da fiume ma questo meccanismo che ovviamente molto molto dopo nel periodo di Leonardo da Vinci era diciamo precedentemente utilizzato dalle navi prima della propulsione a vela quindi le navi romane le prime le navi medievali anche se a vela andavano le navi greche fenice e così via le navi cartaginesi e poi ovviamente anche le scialuppe noi diremmo oggi di salvataggio in realtà erano delle lanci erano delle ulteriori scialuppe delle barche annesse ai vascelli e alle barche a remi comune anche le classiche barche dei pescatori questo tipo di propulsione permette di sfruttare quello che è il movimento d'attrito meccanico tra la pala del remo quindi manuale contro l'acqua e permette il movimento avanti indietro dell'imbarcazione e anche movimenti laterali ovviamente la necessità forza con quale insomma questo meccanismo deve andare avanti è sicuramente maggiore rispetto a quella della vela la propulsione medica è stata sicuramente la grande evoluzione dell'impianto di movimento di un'imbarcazione comparsa con i periodi del del novecento con il carbone quindi i primi del novecento con i piccoli piroscafi fino ad arrivare ai primi grandi le prime grandi navi ricordiamo giusto per fare tre nomi le famosissime olimpiche e titanic dell'inizio del novecento fino poi alle navi di oggi la differenza è che la propulsione delica è alimentata quindi la sua rotazione è alimentata da un sistema a combustione che nei primi del novecento era garantito dal carbone poi successivamente è stato attribuito agli idrocarburi ai misceli di idrocarburi e poi successivamente come oggi avviene o per sistema elettrico quindi centrali elettriche oppure attraverso propulsione nucleare come nel caso della classe nimitz delle portaeree americane e la caratteristica della pala dell'elica ha un movimento circolare quindi su lungo un asse e nello stesso tempo le pale che hanno un'angolazione anche un'aerodinamicità creano praticamente un vortice concentrico il cui vortice concentrico moltiplicato per il numero delle pale permette di creare un movimento una spinta come nel caso dei remi in questo caso ovviamente nel caso della qui abbiamo la classica storica fotografia del titanic o dell'olimpic perché insomma era difficile poterle poterla identificare da questa foto rimaniamo titanic come come viene etichettata da moltissimi le pale qui abbiamo due tipologie di pale ad elica e laterali che sono a tre pale e quella centrale invece a quattro pale queste non le classiche la classica propulsione della della classi olympic della white star line e queste erano come abbiamo detto prima alimentate alimentate a a carbone il sistema ovviamente alimentato come detto dopo a carburante elettrico sistema nucleare più o meno verte sullo stesso meccanismo cioè andare a generare un meccanismo di di generazione di corrente nel caso del sistema elettrico nucleare andare a creare una combustione per permettere il movimento di una dinamo e poi successivamente il movimento rotazionale attraverso meccanismo meccanico della pala dell'elica il flusso eccolo qui generato dall'elica permetterà il movimento dell'acqua per attrito e di corrispettiva il numero dei giri moltiplicato quello che è la tonnellata insomma la tonnellato della dell'imbarcazione permette il suo spostamento l'impianto per essere diciamo più generici che genera diciamo alimenta questo tipo di rotazione è una caldaia la cui caldaia crea ovviamente un una turbina che genera appunto questo movimento un condensatore che permette di andare a togliere l'umidità all'interno di questo vapore e attraverso un meccanismo rotante quindi un riduttore di giri e un'asse di elica l'elica praticamente gira lungo se stessa questo impianto come ho detto prima prima era all'inizio del novecento era a carbone poi piano 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 è diventato come oggi in alcune già si sta iniziando a installare elettrico ma fondamentalmente ancora adesso è carburante e nucleare amici modellisti amici di modello on passion grazie di aver seguito questo approfondimento sulla propulsione è assolutamente di fondamentale importanza capire come che tipo di propulsione c'era per uno sicuramente andare ad evitare errori durante la costruzione due cercare di carpire quelle che sono le caratteristiche dell'epoca costruttiva e ovviamente divertirsi a cercare di riprodurre nel modo più fedele possibile quello che è la nel meccanismo di propulsione del modello che si sta realizzando amici modellisti grazie di averci seguito e arrivederci al prossimo approfondimento ciao a tutti